Quello che sento di sottolineare ancora una volta perché poi le parole evidentemente hanno una loro carica suggestiva al di là del valore giuridico che hanno, è che le accuse di corruzione non comportano e gli stessi magistrati riconoscono il fatto che Giovanni Totti abbia intascato chi per lui in questa inchiesta un euro per se stesso o una utilità dedicata alla sua persona o alla sua famiglia. Posso orgogliosamente dire di essere assai più povero di nove anni fa quando dirigevo alcuni telegiornali del gruppo Mediaset con stipendi e benefits ben più corposi di quelli pure ottimi perché ci mancherebbe altro di presidente di regione. Qui stiamo parlando di un collegamento tra squisitamente attività politiche, quello di finanziamento di movimenti politici anzi di un comitato politico che si chiama Giovanni Totti Liguria.